Simol è attualmente presente in 50 paesi del mondo. I mercati di riferimento che serviamo già da diversi decenni sono Canada, Sudafrica, Stiamo puntando gli Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda. Ultimamente abbiamo inserito anche Russia, Qatar e Arabia Saudita. Il settore principale è quello dell'agricoltura, dove siamo presenti ormai da più di 40 anni. Questo ci ha permesso di raggiungere come clientela i più grossi produttori di macchine agricole del mondo che già da decenni montano i nostri prodotti. Perché molti clienti decidono di scegliere Simol? Perché noi siamo in grado di offrire non solo un determinato prodotto a un certo prezzo, bensì anche un certo tipo di consulenza. La nostra consulenza non è solo commerciale, bensì anche tecnica, al fine di trovare il miglior prodotto per l'applicazione scelta dal cliente.